Sono tornati, nonostante la pioggia, a far sentire la loro voce per chiedere la liberazione dei loro congiunti. I familiari dei 18 marittimi bloccati in Libia dal primo settembre scorso, fermati dalle milizie del generale Haftar perché avrebbero violato le acque di pertinenza lipica, sono scesi ancora una volta in piazza per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Poi la manifestazione a causa della pioggia si è spostata nell'aula consigliare a sostenere le famiglie, anche l'associazione provinciale Cuochi. Siamo qua oggi non solo come associazioni cuochi e pasticceri provinciali ma come cittadini, come padre di famiglia, come uomini, uomini che chiedono il diritto alla libertà, il diritto alla libertà in questo caso per i nostri prescatori perché mancano dalle proprie famiglie da molto tempo. Oggi siamo qua con queste divise bianche proprio per una forma di protesta, una forma di protesta nel nostro lavoro perché quando si esce la mattina da casa si esce per andare a lavorare e non per andare a rubare. E non è possibile che nell'anno 2020 ancora si rischia di essere sequestrati per il proprio lavoro. 90 giorni di assenza sono ormai troppi. Dopo la telefonata dello scorso 11 novembre è calato un'altra volta il silenzio. Le famiglie stanno pensando di tornare in presidio a Montecitorio. Se c'è la necessità torneremo nuovamente a Roma, sì sì, perché il governo ci deve dare conto e soddisfazione, il governo ci deve dire la realtà dei fatti qual è, non della trattativa perché a noi non interessa ma ci deve dire il tempo, a che punto è arrivata questa benedetta trattativa. Presente anche il sindaco Salvatore Quinci. È finito il tempo della pazienza, ha detto in questa vicenda il vero assente è l'Unione Europea, esortando anche la cittadinanza ad essere più vicina ai familiari dei marittimi. Mazzara continua a essere quasi addormentata, sedata, un tessuto sociale sfilacciato. Non tutta la marineria si è riunita attorno ai familiari in questi 90 giorni così drammatici. Non tutta la città ha partecipato agli eventi e si è fatta sentire coinvolta, come se la cosa riguardasse soltanto qualcuno e non l'intera comunità cittadina.